Assessore, state lavorando senza sosta per far ripartire la scuola a pieno ritmo e per far questo proseguite con gli screening domani e domenica per quanto riguarda i ragazzi delle scuole medie, ma c'è una notizia proprio di pochi minuti fa perché la prossima settimana ci saranno gli screening anche per i ragazzi, per gli studenti della scuola primaria. Domani e domenica completeremo lo screening per i ragazzi delle scuole medie, poi il 17 e il 18 saranno completati anche al comprensivo 3, al comprensivo 5, al comprensivo 6, quindi avremo finito mercoledì, giovedì finiremo con le scuole medie. Alla grande novità che appena adesso sono riuscito ad ottenere dalla ASL la possibilità di fare lo screening anche per le scuole primarie, quindi saranno altri 5.300 ragazzi che potranno andare a fare lo screening accompagnati dai genitori. Già domenica avremo un quadro abbastanza chiaro per quel che riguarda le scuole medie, la settimana successiva il 20 e il 21 che faremo lo screening anche con le scuole primarie saremo ancora più precisi, avremo l'idea molto più chiara, anche se bisogna dire che riapriremo le scuole, qualche dubbio c'è. Quindi il sindaco sta decidendo, dovrà decidere assieme all'ASL e al prefetto se continuare la chiusura delle scuole. Il personale ATA e il personale docente lo faranno domani e dopodomani presso la struttura di via Tirino al centro Fiere, quindi anche il personale docente ATA sarà monitorato costantemente. Adesso purtroppo ho scoperto questa cosa che i ragazzini da 0 a 6 anni lo screening non lo possono fare. Vediamo i risultati che ci saranno tra sabato e domenica per le scuole medie, in base a quello ci potremo dare una regolata e quindi decideremo, il sindaco deciderà se riaprire o meno le scuole la prossima settimana.